Una chiave per la tua vita. Non so tu, ma io ho spesso bisogno di consigli. Di fronte a tutte le decisioni quotidiane, a volte banali, a volte importanti, che devo prendere anche per scrivere un miracolo ogni giorno. Ho tanto bisogno della guida di Dio. Ogni volta trovo risposte nella sua parola, nella preghiera e nella ricerca della sua presenza. A volte siamo come un bivio della nostra vita. Non sappiamo se aspettare, andare a destra, andare a sinistra o anche tornare indietro. Questo genera ansia, paura e disagio. È un po' come quando il GPS è scollegato. Ricevi queste parole come un incoraggiamento, una chiave e un fondamento per la tua vita di oggi. Signore, tu sei il mio rifugio. Tu mi tieni lontano dall'angoscia. Mi circondi di gioia e di canti di liberazione. Tu hai detto, io ti istruirò e ti mostrerò la strada che devi prendere. Sarò il tuo consigliere. I miei occhi veglieranno su di te. Dio è il tuo rifugio, amico mio. Ti tiene lontano dall'ansia. Ti mostra la strada. Il suo sguardo è su di te. Con Lui non ti perdi mai. Sa dove devi andare e come arrivarci. In ogni momento condividi le tue domande con Dio e poi prenditi del tempo per ascoltare la sua voce. Prenditi il tempo di ascoltare ciò che il suo cuore desidera comunicare al tuo. Non avere più paura. Dio ti promette che ti mostrerà la via da seguire. È il miglior GPS per la tua vita. Inoltre per me GPS significa guidato dal Signore. Grazie di esistere. Eric Selerie Grazie di esistere.